Buonasera, sono Belinda D'Angelo, vi sto parlando dal centro Pilates e altro che si trova nel cuore del centro di Padova, dove facciamo attività psicofisiche come il Pilates e altre correlate di cui vi parlerò più avanti. Il Pilates è un'attività dove è importante la connessione della mente e del corpo, quindi ci serve una concentrazione che in realtà non danneggia il cervello ma anzi gli dà una carica di ossigeno. Adesso passeremo a un esercizio pratico così vi farò vedere in che cosa consiste. Eccoci qui per la prova pratica, come dicevamo stasera parleremo di un esercizio che va bene per il mal di schiena che potrete fare a casa vostra e usiremo Veronica come modella per vederne appunto l'esecuzione e la specifica. Perciò adesso Veronica si sdraierà, vi potete sdraierare su materassino, meglio una superficie morbida, non il materasso perché potrebbe essere troppo morbido. Mi metto in questa posizione supina, piego le gambe, cerco di tenere i piedi in linea con il bacino, le ginocchia lo stesso, le spalle bene lontane dalle orecchie e le braccia lungo i fianchi. L'esercizio inizia semplicemente inspirando, cerco di allargare le costole e buttando fuori l'aria ruoto dolcemente pensando di appoggiare la zona lombare sul tappettino. Quando inspiro riporto il bacino in posizione neutra e poi ripeto buttando fuori l'aria ruoto. Faccio due tre volte questo esercizio in modo da far capire alla mia colonna che cosa voglio fargli fare. È un esercizio che va bene da fare anche a letto prima di alzarsi se soffrite di mal di schiena e poi la prossima volta cerco di fare un movimento un po' più ampio, perciò inizio a sollevare pensando di usare i muscoli del pavimento pelvico che sono quelli che vi servono per trattenere la pipì, ruoto, sollevo sentendo le ginocchia lunghe e la testa lunga in posizione. Inspiro buttando fuori l'aria, ruoto, questa volta cerco di salire un po' di più mentre il bacino ruota e sale, lo sterno scende. In, fuori l'aria, qui è importante sentire anche l'attivazione dell'interno coscia che vi permette di tenere le ginocchia allineate e sentire bene il peso sugli alluci. È sempre importante che mentre vogliamo muovere la colonna vogliamo però aumentare lo spazio che c'è tra le vertebre, perciò cerco questa lunghezza dove le orecchie si allungano da questa parte, mentre le ginocchia si allungano sempre in opposizione, come un elastico. L'elastico è in tensione se si allunga da due estremità. Vi faccio vedere nello specifico il movimento del bacino perché è molto importante, perciò chiederò a Veronica di portare questo braccio, ecco qui, appoggiato lì, perciò ripetiamo, inspiro, mentre espiro ruoto leggermente come se avessi dell'acqua sul pube che voglio rovesciare verso la gola. Sali un po' di più? Mentre il pube sale le costole chiudono. Inspirando, appoggio dolcemente a ritroso la colonna ed espirando scavo, ruoto, sento le orecchie lunghe e le ginocchia lunghe. Posso anche ispirare mentre sono su ed espirare scendendo, come se avessi una collana di perle, devo appoggiare una collana, le perle una alla volta a ritroso, fino a che ritorno nella mia posizione fisiologica naturale. Ora cercherò di darvi invece un consiglio molto utile che dovrete provare a mettere in pratica ed è quello di come ci dobbiamo alzare dal letto al mattino. Quindi supponiamo che adesso Veronica è sdraiata nel suo letto. La cosa che generalmente si fa è quella di sollevarsi dritti, ma richiediamo uno sforzo incredibile ai nostri muscoletti piccolini vicino alla colonna che sono freddi perché durante la notte sono rimasti a riposo. Invece mi dovrò girare in decubito laterale o in posizione fetale, portare giù le gambe, mi aiuto un po' con il braccio e vengo seduta. In questo modo la colonna non ha nessun carico e quindi non potrete avere mal di schiena. E in questo modo sicuramente eviterete di avere mal di schiena per chi ancora non ce l'ha. Spero che il mio consiglio vi sia stato utile e vi aspetto domani sera con un nuovo esercizio e un nuovo consiglio. Grazie a tutti e buona serata!